AQM è un centro di servizi tecnici alle imprese nato nel 1982 con lo scopo di servire il territorio nazionale nell'ambito del testing, della consulenza e della formazione tecnica, con particolare riferimento alle aziende e alle società che si occupano di metallurgia e meccanica. La nostra struttura sviluppa attività di testing avendo a disposizione ben 16 laboratori che operano dalle prove meccaniche alla failure analysis che è uno dei punti di forza della nostra società. Completano poi i servizi le attività di formazione tecnica e di consulenza tecnica, tutte finalizzate a fare in modo che le imprese e i nostri clienti possano incrementare la competitività dei loro prodotti e dei loro processi sui mercati internazionali.